Un fine settimana importante per il Gela Football Club nel torneo di promozione e per il Gela di calcio a 5. Due partite che potrebbero decidere una stagione. Nel torneo di promozione i gialloneri di mister Francesco Evola affronteranno al Licodia e Ubea le Ubea dell'ex Alessio Catania. Tanti sentimenti contrastanti ma una semifinale da vincere per poter poi provare a battere anche il Mazzarrone. La squadra di Francesco Evola non ha altre alternative. Deve provare a vincere perché un pareggio o una sconfitta farebbero qualificare la formazione di casa. Il tecnico nisce mese non potrà contare sull'attaccante Simone Alabiso squalificato. I sentimenti sono contrastanti perché sulla panchina dell'Ubea c'è l'ex Alessio Catania. L'amicizia intanto va a prescindere dal calcio. Quella c'è e rimarrà sempre. Una partita senza segreti. Lui conosce molto della nostra squadra. Noi abbiamo avuto modo di apprezzare e conoscere la loro squadra. Quindi sarà una partita ad armi pari. Ma penso che anche se c'è il discorso dei due risultati su tre che è a loro favore, penso che sarà una partita bella, che verrà giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Cala il sipario invece nel torneo di C2 di calcio a 5. Il Gela dovrà provare a battere il Ferla che è attualmente capolista e poi sperare che lo Scicli non vinca a Campobello per poter festeggiare la promozione in C1. Si aspettano almeno 100 tifosi dalla città di Ferla, così come i tifosi della Boscaglia sanno presente qui al Palalivatino. Enzo Fecondo non nasconde la propria emozione. Questa è la partita dell'anno, è inutile che ci nascondiamo. Abbiamo atteso tutta una stagione per arrivare a questo punto e adesso ci siamo. Quindi tutto dipende da noi, anche se per vincere il campionato dobbiamo aspettare anche il risultato proveniente da Campobello, dove gioca lo Scicli, che è l'altra interessata a questo finale trilling, che probabilmente neanche a pensarlo nessuno poteva immaginare di arrivare fino a questo punto, l'ultima giornata. Però siccome tutti avevamo un desiderio, che dobbiamo riuscire a riempire questo palazzetto e probabilmente l'unico modo per farlo era o fare una finale di Coppa e ci siamo riusciti oppure arrivare l'ultima giornata in questa situazione. Per cui diciamo che qualcuno ci ha voluto accontentare dall'alto, ma ora tutto dipende da noi. Io vi ho accontentato, ora dovete vincere voi. Il presidente Maurizio Meffa ha intanto ricevuto oggi la commissione di vigilanza dei pubblici spettacoli per poter ampliare la capienza del Palalivatino. Palalivatino è una struttura che è stata restituita alla città. Io noto, e di questo sono molto contento, un bel fermento in città. Vediamo le squadre di calcio, l'FC, la squadra di terza categoria che ha vinto, anzi di seconda categoria, noi abbiamo vinto il campionato, il basket, il playoff e così via dicendo anche tanti altri sport. Quindi noto un bel fermento positivo. Il Palalivatino è una grande struttura che sta aggregando in qualche modo tutti questi movimenti e non si fermerà allo sport. Quindi noi puntiamo a fare eventi culturali, ricreativi e penso che sia una bella opportunità per questa città e per tutte le sue potenzialità. Quindi sotto questo aspetto un lavoro duro, faticoso, ma di grande entusiasmo.